E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo rapido video di aggiornamento e di informazioni perché ieri, mercoledì 24 gennaio, Apple ha rilasciato una nuova e importante versione del suo sistema operativo iOS 11 che si aggiorna alla versione 11.3 Perché ve ne parlo? Beh perché Apple innanzitutto ha dato molta importanza a questo nuovo aggiornamento vi sono molte novità, anche se tuttavia ci è arrivato un po' sorpresa perché nessuno se lo aspettava ieri e ci dà anche delle anticipazioni sulle prossime mosse che fra Apple come azienda quindi quali dispositivi rilascerà, come si comporterà nei prossimi mesi quindi in questo video discorsivo riassumeremo tutte le sue novità e ne parleremo un po' ho eseguito l'aggiornamento ad iOS 11.3 beta quindi ho aggiornato solamente il mio iPhone X visto che per il momento appunto come ho appena detto si tratta di un software in versione beta quindi per ora possono provarlo solo coloro che sono ufficialmente registrati all'iOS Developer Program e per adesso non ci sono beta pubbliche io fortunatamente possiedo un account da sviluppatore quindi eccolo qui installato sul mio iPhone X leggete versione 11.3 15e 5167f comunque non temete la versione per tutti uscirà questa primavera e sarà scaricabile gratuitamente ovviamente essendo un aggiornamento sostanzioso Apple lo vuole prima provare bene tramite le beta per assicurarsi che poi la versione finale non abbia problemi ma detto questo secondo me ci siamo persi fin troppo in chiacchiere vediamo tutte le novità che sono già state introdotte nella prima beta o che verranno introdotte con le beta future sull'iPhone X e su tutti gli altri dispositivi aggiornati alla 11.3 detto questo iniziamo dalla novità più banale ma anche la prima che incontriamo dopo aver terminato l'aggiornamento ovvero dopo il riavvio del dispositivo quando saremo ancora sulla schermata di configurazione bianca iniziale c'è una nuova schermata per le impostazioni della privacy come forse saprete se eseguite un software beta siete costretti ad inviare dati anonimi sull'utilizzo del vostro dispositivo Apple in modo tale che appunto Apple possa accoggersi di eventuali problemi e risolverli nelle future beta e la schermata che vi informa di questo fatto adesso ha una grafica leggermente più rivisitata normalmente Apple non ci ha mai badato troppa attenzione dato che compare solo nelle versioni beta ma sappiate che adesso la nuova grafica è questa qui ma passiamo invece adesso a una vera novità una novità importante sono state introdotte 4 nuove animoji sugli iPhone X per chi non lo sapesse gli animoji sono quelle facce 3D che noi possiamo mimare e plasmare con il nostro volto effettivo possiamo creare dei piccoli video in cui parliamo e animiamo queste faccine e mandarle ai nostri amici ora starete guardando il mio iPhone X dato che è una funzione esclusiva di questo iPhone e premendo sul bottone di App Store come abbiamo sempre fatto si accede alla sezione delle animoji però come potete vedere sono disponibili 4 nuove faccine ve lo faccio vedere in questa visuale che si vede meglio abbiamo il leone, il drago, il teschio e l'orsacchiotto io ragazzi adoro il leone cioè guardate è un qualcosa di bellissimo perché sembra una sorta di caricatura riesce a sfigurare questa idea di animale rabbioso lo rende quasi una creatura delle favole ed è bellissimo secondo me con questa criniera che peraltro si muove anche se noi agitiamo veloce la testa quindi il leone lo userò sicuramente dopodiché abbiamo il drago che mi ricorda un po' quello di Dragon Ball e sinceramente non mi piace tanto proprio no, con questi baffi che si muovono e c'è anche le corna successivamente abbiamo il teschio orribile secondo me però se vogliamo mandare qualche messaggio un po' intimidatorio possiamo usare lui la tua fine è vicina e poi abbiamo quello più tenero di tutti che è l'orsacchiotto che secondo me è stupendo anche questo anche se diciamo che ha pochi dettagli me lo sarei aspettato un po' più dettagliato ha meno rifiniture degli altri il leone rimane quello più dettagliato e forse sì, è questo quello più bello quindi avete visto che ci sono queste nuove animoji sono quattro adesso forza con i commenti Apple non riesce a far novità se non creando delle nuove animoji tanto lo so che arriveranno commenti del genere passiamo però adesso a una funzione effettivamente utile questa volta su tutti i dispositivi aggiornati da iOS 11.3 non solo l'iPhone X che si chiama Messaggi su iCloud i più attenti di voi se la ricorderanno perché quest'estate era una funzione che era presente nelle beta di iOS 11.0 era appunto estive ma poi era stata tolta perché non era ancora pronta finalmente è stata reintrodotta ancora in funzione beta ed è molto comoda perché finalmente permette di sincronizzare tutte le conversazioni nella vostra applicazione e messaggi quindi tutte le vostre chat di iMessage e tutti i vostri SMS di testo normali sincronizzarli in iCloud questo principalmente vi dà due vantaggi liberare spazio sul dispositivo spostando e archiviando tutte le conversazioni inclusi anche video e foto che appartengono ad esse sul cloud quindi non occuperanno più spazio fisico sul dispositivo ovviamente solo se voi attivate questa funzione e in secondo luogo ancora più comodo secondo me finalmente sia la sincronizzazione dei messaggi e degli iMessage con tutti i dispositivi Apple che abbiamo in casa su cui si è eseguito l'accesso con lo stesso iDiCloud ovviamente quindi se per esempio cancello una conversazione sul mio iPhone scompare anche dal mio iPad e viceversa se comincio una conversazione per esempio sul Mac mi appare anche sull'iPhone e sull'iPad e così via tutto sincronizzato Apple ha sempre avuto tutto sincronizzato tramite iCloud mancavano giusto giusto i messaggi che finalmente ora lo sono e già che parliamo di iMessage è stata sbloccata un'altra funzione che era largamente anticipata da molto tempo che è la business chat un'estensione di iMessage più adatta alle conversazioni lavorative funziona tramite applicazioni l'applicazione dell'azienda per cui lavoriamo dovrà supportare questa business chat e se la supporta aggiungerà appunto un'estensione daiMessage che ci permetterà di chattare direttamente con un responsabile un addetto un rappresentante del servizio business chat di quell'azienda che potrebbe permetterci di svolgere delle operazioni in modo più rapido per esempio comprare dei prodotti fissare degli appuntamenti degli eventi e cose di questo tipo parliamo ora di un'altra importantissima novità che purtroppo non vi posso far vedere perché non è disponibile dalla prima beta lo sarà dalle beta future magari beta 3 beta 4 chi lo sa ed era anche questa stata anticipata finalmente iOS 11.3 includerà nelle impostazioni un pannello apposito che non solo ci permetterà di vedere il livello di usura della batteria quindi non dovremo più fare affidamento ad applicazioni di terze parti che potrebbero essere non affidabili ma ce lo dirà direttamente Apple e in più ci sarà anche il famigerato slider che ci permetterà di dirgli se deve concentrarsi sulle prestazioni quindi essere più potente ed evitare di rallentarsi però inevitabilmente questo farà durare di meno la batteria oppure magari una giornata in cui abbiamo poca autonomia e vogliamo concentrarci sul far durare quell'iPhone fino a sera allora potremo spostare la levetta su batteria l'iPhone andrà un po' più lento ma la batteria durerà di più finalmente Apple ci dà la possibilità di scegliere o meglio ci darà perché ripeto questa funzione attualmente non è ancora presente ci spostiamo adesso a tre novità minori che comunque sono degni di nota innanzitutto l'applicazione di iBooks quella preinstallata nell'iPhone che promette di leggere EPUB, libri elettronici, PDF è stata rinominata adesso non si chiama più iBooks bensì solo Books anche nella versione italiana non si chiama libri si chiama proprio Books è il nuovo nome dell'app nelle impostazioni c'è una nuova icona per la casella privacy che prima era grigia triste adesso l'hanno fatta blu e finalmente su App Store nella sezione aggiornamenti che racchiude tutte le applicazioni già installate che tuttavia dovremmo aggiornare perché lo sviluppatore ha rilasciato una nuova versione dell'app oltre al changelog quindi alla lista di tutte le novità tutto quello che cambierà dopo l'aggiornamento in quell'applicazione potremmo anche vedere l'effettiva ultima versione che andremo a scaricare cosa che prima inspiegabilmente non c'era ma se ben vi ricordate a inizio video vi avevo anche parlato di alcune novità che ci avrebbero fatto anticipare le mosse di Apple infatti non solo Apple finalmente ha confermato in modo ufficiale la data di rilascio dell'HomePod la cassa di Siri intelligente realizzata da Apple stessa ma in più iOS 11.3 includerà molto probabilmente AirPlay 2.0 AirPlay è la tecnologia di duplicazione tramite la quale un iPhone iPod o iPad può mostrare il proprio schermo su un Apple TV oppure condividere il proprio audio per esempio proprio con l'HomePod o con alcune casse Bluetooth che supportano AirPlay non si sa ancora cosa avrà di nuovo questa tecnologia AirPlay 2.0 ma siccome la prima ha avuto un enorme successo non vedo l'ora di scoprirle e per quanto riguarda l'HomePod menzione rapidissima per citare il comunicato stampa ufficiale che si è sentito due giorni fa riguardante finalmente questa cassa di Siri ed è ufficiale i preordini si aprono il 26 gennaio e arriverà nelle case della gente il 9 febbraio purtroppo non in Italia infatti il primo lancio include pochissimi paesi solo tre Stati Uniti d'America USA UK Regno Unito e Australia solo questi tre in nessun'altra parte del mondo il day one sarà il 9 febbraio né tantomeno si potrà preordinare però io ho aspettato troppo quel dispositivo doveva uscire a dicembre io me lo sarei preso a dicembre quindi inevitabilmente me lo prenoterò dall'Apple Store UK me lo farò rispedire qui e il 9 febbraio sarà in mano mia e vi porterò indubbiamente tanti bei video perché io ho molta fiducia su questo dispositivo anche se a molti in realtà non piace quindi ragazzi io spero che questo rapido video di aggiornamento per quanto riguarda iOS 11.3 beta la nuovissima versione chiamiamola anche major release rilasciata da Apple ieri vi sia piaciuto ho tentato di riassumervi le novità più importanti nel modo più veloce e chiaro possibile se vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice ci tenevo veramente in modo rapido a scusarmi se in questo periodo più che altro i video sono irregolari ma è perché ho grandissimi problemi di organizzazione in particolare dovuti al fatto che mi sto riorganizzando la stanza l'avrete capito sto rifacendo molte parti della postazione da zero e non è facile registrare durante questo passaggio in più ho anche avuto la febbre quindi il mondo è contro di me quando voglio registrare seguitemi su tutti i miei social network e come sempre il link vi rilascio qui sotto giù in descrizione cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale se lo fate siete dei grandi io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video